I dati della Toscana non sono dati da zona rossa, va ripetendo il presidente Gianni, e in effetti il trend dei guariti di Covid è in continua crescita nella nostra regione. I dati dei contagiati sono in calo continuo da almeno sei giorni, così come è in calo il dato dei ricoveri. Gianni si è anche fermato nella ricerca di nuovi posti letto Covid. Moltissimi ancora i morti, anche se gli esperti spiegano che le curve dei contagiati e ricoveri e quella dei decessi seguono schemi differenti. Cerchiamo però di capire perché le notizie positive potrebbero non bastare. Il DPCM, che ha istituito gli ormai famosi colori, stabilisce che una regione rossa possa cambiare colore se i dati del monitoraggio registrano una permanenza a un livello di rischio inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive per 14 giorni consecutivi. La Toscana è rossa dal 15 novembre, ma solo se l'atteso monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità stabilisse che per due settimane i numeri, l'R con T e i 21 parametri considerati, fossero compatibili con uno scenario 2, ci potrebbe essere un allentamento. Bisogna poi tener conto del ritardo tecnico con cui vengono fotografati i dati. Le decisioni sono prese su dati non aggiornati. Quelli che analizzerà a breve il Ministero saranno della settimana 16-22 novembre, non di questa. E difficilmente saranno dati sufficienti a una schiarita. Potrebbero esserlo l'RT, l'indice di contagio, ma non altri dei 21 parametri, come l'occupazione dei posti letto o il tracciamento, sui quali siamo migliorati questa settimana, ma la scorsa ancora arrancavamo un po'. La Toscana, infatti, non è tra le regioni per le quali si parla di un cambio di colore a breve. I dati di questa settimana, quelli che potrebbero far cambiare fascia, dovrebbero invece essere analizzati il 4 dicembre, non in tempo per il DPCM del 3 dicembre. Il cambio di colore, soprattutto verso il giallo, potrebbe quindi essere rimandato a poco prima di Natale. C'è inoltre da considerare che il DPCM stabilisce che le ordinanze di Speranza debbano rimanere in vigore almeno 15 giorni. Il sistema è complesso e persino il ministro Boccia ha chiesto una revisione dei criteri di valutazione. In tutto questo ingarbugliamento si inserisce l'ipotesi che il DPCM del 3 dicembre introduca uno scenario di due soli colori, che rimetterebbe in discussione un po' tutto. Ma questo è un vedremo ancora troppo ipotetico.